Ciao a tutti e bentornati sul mio Gesso Flotus. Oggi faremo una deck tech preview di un mass commander, Centurion, come vi avevo già anticipato. Parleremo di Urza, l'Urza nuovo del precostruito di commander di Brothers War. Ovviamente essendo una deck tech preview è una lista che ho fatto un po' così su due piedi, quindi non prendetela come la lista assoluta perché è una lista non testata, ma vi darà delle indicazioni su quella che potrebbe essere un'idea di lista per giocare questo comandante. Prima di iniziare però come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto, scusate, di mettere mi piace, commentare i nostri video se li gradite, di seguirci sia qua su YouTube che su Twitch, dove stiamo cercando di essere sempre più presenti, portando sempre più contenuti e sempre più live, quindi se vi fa piacere venite a seguirci anche lì, potete anche sottoscrivere un abbonamento messile su Twitch che nel caso in cui abbiate Amazon Prime è completamente gratuito. Vi basterà collegare i due account di Twitch, quello di Twitch e quello di Amazon e sottoscrivere l'abbonamento al nostro canale, non dovrete pagare nulla ma noi darete un supporto enorme. Detto ciò iniziamo con il video parlando innanzitutto di quello che è il nostro comandante. Allora, Urza, Kiev Artificer. Allora, questo comandante costa 6 della color Pi Esper, quindi un bianco, un blu, un nero e 3 colorless, 3 in colore. La prima abilità dice affinità per gli artefatti creatura, quindi questa spell costerà 1 in meno per ogni artefatto creatura che controlliamo. Quindi notate bene artefatto creatura, non è affinity classico, artefatto generico, per fortuna, altrimenti sarebbe un tantinello forte. Poi la seconda abilità dice le creature artefatto che controlliamo a non minacciare, quindi rende evasive le nostre creature, forte. La terza abilità, che è quella forse più importante insieme alla prima, all'inizio della end, quindi all'inizio della fine del turno, create uno 00, un costrutto 00 in colore, artefatto, con questo artefatto prende più 1 più 1 per ogni artefatto che controlliamo. Quindi classico costrutto che creano tantissime carte di magic, che prende più 1 più 1 per ogni artefatto nel nostro campo di battaglia, sotto il nostro controllo. E poi è un 4-5, quindi è una creatura già piuttosto grossa di per sé. Allora, qual è l'idea del mazzo? L'idea del mazzo è, a mio parere, quella di scontare il più possibile il comandante, in modo tale da farlo nei primi turni, o comunque in un turno abbastanza utile, e poi generare un value incredibile con le sinergie che ha già da solo con gli artefatti, quindi il costrutto e l'abilità di renderli evasivi, più altre carte che sono particolarmente sinergiche, che vedremo successivamente. I colori Esper, in teoria, fanno un po' pensare a una tipologia di mazzo prettamente controllo. A mio parere, questo tipo di mazzo però non va giocato in una build controllosa, ma più che altro in una build stasi, artefattosa, che supporti al massimo il nostro comandante. Se vogliamo giocare contro, giochiamo altri comandanti più performanti, che possono essere Tivit, ad esempio, per questa color pie, piuttosto che Oloro, o non lo so, quello che volete voi. Ma Urza non lo vedo per un mazzo controlloso. Vedremo che proprio in quest'ottica, infatti, ho fatto delle scelte, tra cui quella di non giocare counter, ad esempio. Nonostante ci sia il blu, nella mia lista non ci sono counter, ci sono pochissime remove. Perché voglio supportare al massimo quella che è l'idea del comandante, quindi giocare con gli artefatti. Partiamo brevemente dai place walker, ne ho messi solamente due, quelli che mi sembravano un po' più forti, ma non sono fondamentali per il mazzo, quindi sono già due slot che sono più che intercambiabili. Il primo è Karn, che non mi dilungo troppo sulle carte, altrimenti viene un video di sei ore, dico solamente le abilità più forti e più sinergiche. Karn che è qui principalmente, oltre che per fare velu, per il meno due. Quindi la possibilità di creare un artefatto a costo... Eh, scusate, con meno due creare uno zero zero che prenderà più uno più uno per ogni artefatto, quindi il solito costrutto, come quello di Urza, e poi che saranno poi la nostra chiusura principale. Quindi avere una carta oltre a Urza che fa questi costrutti è fondamentale per il mazzo. Tezzer ti invece fa diventare degli artefatti dei 5-5, oltre che anche questo fare velu con il più uno, però l'altro motivo per cui è qua è fare il meno uno e far diventare un artefatto un 5-5, che quindi è una creatura in più, e quindi sconta il nostro comandante e in più mena. Perfetto, proprio sinergico al massimo. Poi andiamo alle creature. Tra le creature abbiamo delle scelte molto particolari, che possono essere condivisibili o meno, ma come dicevo, la mia idea è quella di giocare tutte le creature con costo basso forti, in modo tale da far scendere Urza il prima possibile. Quindi vedremo nella lista tutti degli artefattini a costo zero, che possono essere il Pyrexian Walker, che è uno 0-3 che non fa nulla, la Shellsphere, che è un'altra 0-6, un altro muro che di fatto non fa nulla se non entrare a costo zero, il Mepnito, l'Ornitottero, insomma tutti quelli che sono gli artefattini a basso costo. Qualcosa ovviamente l'abbiamo anche a costo 1, abbiamo l'Hop of Gear, purché ci permette anche di, quando facciamo danno, di non permettere all'avversario di castare non creature fino alla fine del turno. Quindi fa danno e poi fino alla fine del turno l'avversario non potrà castare spell non creature, se lo sacrifichiamo. Quindi può essere anche utile in certi contesti, per esempio per scombare, dopo vedremo come. Poi abbiamo l'Exparasite, molto utile per togliere, per esempio, i Planeswalker, grazie alla sua abilità che rimuovi X segnalini da un permanente, per ogni segnalino lui prende più 1-0 fino alla fine del turno. Quindi molto forte, per esempio per togliere le Loyalty, sai, i Planeswalker. E poi abbiamo altre carte a costo basso di vario genere, come l'Exper Sentinel, come l'Hungerback Walker che in realtà può entrare anche per esempio a costo 1, eccetera. Ma le carte che danno, diciamo, più solidità al mazzo sono quelle che ci permettono di tutorare le parti della combo. Perché? Perché per come l'ho strutturato io, oltre che avere la possibilità di chiudere con i costrutti, come abbiamo detto prima, rimane un combo, un combo artefattoso. Quali sono le due combo? Iniziamo da lì. Allora, la prima è la classica mola pittore. Quindi Painter Servant più la Greenstone, che non è una creatura, quindi non la vedo. Eccola qua. Allora, qual è la combo fra queste due carte? Per chi non la conoscesse, la Greenstone è un artefatto che costa un mana, pagando 3 dice, un giocatore macina due carte, sostanzialmente. Se queste carte condividono un colore, ripeti questo processo. Quindi, per esempio, ti macino due carte, se sono entrambe bianche, rimaccini altre due carte, e così via, per ogni volta che si ripete questo doppio colore. Qual è la combo? La combo è col Painter Servant, come dicevo, che è una creatura a costo 2, 1, 3, che dice, quando entra, scegli un colore, tutte le carte in gioco, le magie e i permanenti, sono del colore scelto. Quindi anche le carte nel grimorio del nostro avversario saranno di quel colore, quindi se tutte le carte sono dello stesso colore, per esempio bianco, come dicevo prima, la Greenstone macinerà l'intero mazzo, perché tutte le carte condividono un colore. Quindi macini due, condividono il colore, macini altri due, condividono il colore, così fino a quando non è finito il mazzo. Questa è la prima combo. La seconda combo, che è anche particolarmente sinergica con il comandante, è quella che si giocava anche una volta in Modern fra Asworld of the Meek e Tap the Foundry. Qual è la sinergia di queste due carte? Allora, la Sword dice, una creatura prende più 1 o più 2, equipaggiare 2 e costa 2 per essere castata, ma questa vedremo che è la parte più inutile della carta. La parte che ci serve veramente è, quando un 1-1 entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, puoi ritornare la Sword of the Meek dal cimitero in gioco e attaccarla con la creatura. Quindi, quando noi avremo un 1-1 che entra, se abbiamo la Sword al cimitero, la rigiochiamo e l'attacchiamo all'1-1. Perché va in combo con la Tapter Foundry? Perché è quest'artefatto che costa 2, a, paga 1, sacrifica un non-token artefatto, ricordatevelo questo, non-token, metti un 1-1 tottero blu artefatto, convolare nel campo di battaglia e guadagni una vita. Ma, se noi sacrifichiamo la Sword of the Meek, lei andrà al cimitero, entrerà un 1-1, e quindi la Sword of the Meek rientrerà in gioco assegnata con l'1-1. Poi, se paghiamo un'altra mano, possiamo sacrificare di nuovo la Sword of the Meek, creare un 1-1 e la Sword rientra. Poi, risacrifichiamo la Sword e possiamo andare avanti così, per quanto vogliamo. Quindi, possiamo generare una quantità enorme di 1-1 volanti e guadagnare anche una grossa quantità di punti vita. Capite bene che, se noi facciamo tanti 1-1 volanti, già è quasi una mezza combo di per sé, già da sola. In più, scontano il nostro comandante, ci rendono i costrutti più grossi, è esattamente quello che vogliamo. Quindi, ho deciso di inserirla nel mazzo, perché mi sembra particolarmente performante come idea. Quali sono i modi per prendere queste due combo? E non solo. Ne abbiamo diversi. Dico solo i più importanti. Oswald, che sostanzialmente dice che sacrifichiamo un artefatto e possiamo passare il rassegna per un altro artefatto, al Grimorio, per un altro artefatto con costo di mana pari all'artefatto che abbiamo sacrificato, più 1. Quindi, ci può tutelare un pezzo. Poi abbiamo vari modi che ci permettono comunque di vedere più facilmente gli artefatti, come The Reality Chip, che ci permette di giocarli dalla cima, come Emry, che comunque ci fa mettere gli artefatti dal cimitero, e poi li possiamo rigiocare dal cimitero, già tramite lei, volendo. E poi abbiamo la Soft Forge Misty, che in realtà però prende solamente un equipaggiamento, quindi non ci servirà sempre per la combo, però potrebbe prenderci la Sword of the Meek, nel caso in cui abbiamo già la Topter Foundry, e non solo, eccetera. Insomma, ci sono poi vari tutori, la Weir of Invention, la Transmute Artifact, che è probabilmente il tutore più forte di tutti, e le Lighting Tutor, insomma, quelli classici per gli artefatti. Quindi, non facciamo grossa fatica a tutorare pezzi della combo, ecco perché ho deciso di inserirle entrambe. Altre carte particolarmente importanti, fra le creature non direi, se non, vabbè, i soliti Urza, Emry, che ho già nominato prima, l'Urza nuovo, che è carino, perché ci sconta artefatti, istantanei e stregonerie di uno, quindi ci permette di fare prima i drop alti, e di conseguenza anche prima Urza, molto carino. E, vabbè, il Tote Monitor, fortissimo, affinità con gli artefatti, peschi 2, 2-2 volante, lo Spescat, che ci può aiutare a proteggerci un pezzo particolarmente forte, il comandante stesso, il Sai, molto forte, perché ogni volta che giochiamo ad un artefatto, fa un 1-1. Quindi questo qua ci permette veramente di scontare il nostro comandante Urza di tantissimo. E in più, se sacrifichiamo due artefatti, possiamo pescare una carta, quindi questo è anche un comandante, è molto forte, si gioca. Poi, vabbè, Spercenti, nell'Ethereum che ci sconta gli artefatti, ecco, questa è un po' insolita, però mi piaceva molto l'idea, questo 2-2, questo 2, che dice, quando un giocatore, ogni giocatore, che ha giocato una non-artifact spell questo turno, non può giocare altre non-artifact spell, quindi vincolo all'avversario giocare solamente una spell a turno, è quella l'idea. E niente, poi altre varie creature, Pyrexian Revocher, per nominare un'abilità attivata, cioè per impedire un'abilità attivata nominando una carta, Tribute Mage, che è un altro tutore, eccetera. Andando velocemente alle source, avremmo detto, vabbè, il nostro tutore è più importante, il Trasmute Artifact, il Toadcast, che è un peschino, semplicemente, con affinity, e la Dance of the Mets, questa è una carta interessante, costa X un bianco e un blu, e dice, ritorna X artefatti, o non aura incantesimi, e o non aura incantesimi, con costo di mano convertito, X o meno, dal tuo cimitero, sul campo di battaglia. Se X e 6 o più, questi permanenti diventano dei 4-4, quindi ci permette di rigiocare una valanga di roba dal cimitero, per esempio dopo una vratta, che vedremo, è un po' un problema di questo mazzo, ma lo vediamo alla fine, e in più se abbiamo speso abbastanza mano, diventano pure grossi, diventano dei 4-4, carta molto forte. Poi vabbè, una removal con Cheese Judgment, gli Instant, anche qua abbiamo un paio di removal, la Flawless, che ci permette anche questa di evadere le vratte, sostanzialmente rende indistruttibili le creature, se abbiamo il comandante non la paghiamo, non paghiamo il costo di mana, giocatissima, la conoscete tutti. E poi abbiamo il reparto artefatti veri e propri, quindi non creatura, tra cui troviamo, abbiamo detto prima la Greenstone, poi c'è la Cranial Planting, che ci dà più uno per ogni artefatto, un equipaggiamento molto forte, lo Skull Club, che in questo mazzo è devastante, perché facciamo tantissimi 1-1, quindi possiamo veramente fare dei loop di pescate, praticamente infiniti, equipaggiandolo. I Therspell, che è un rimbalzino, i Graves, che ci proteggono Urza, e rendono anche rapida una creatura, quindi se per esempio facciamo un costrutto grosso, possiamo assegnargli i Graves, seminare in quel turno lì, per fare un sacco di danni di turno, la Portable Hole, che è una piccola removal, il Retrofittery Foundry, fortissimo è questo mazzo, perché ci permette di creare tante creature, e quindi scontare il comandante, continuare la nostra strategia, di avere tanti artefatti, per pompare al massimo i nostri costrutti, che sono uno dei modi principali per chiudere. E poi niente, vari accelerini, Lotus Petal, Mox Opal, equipaggiamenti, Shadow Spear, la crane alla bianedetta, insomma, chi più in api ne metta. Carino il Clown Car, che è questo artefatto veicolo nuovo, costa X, è un 1-1, Crio 2, quando entra tiriamo un X da 6 facce, e per ogni risultato dispari, facciamo un 1-1 robot artefatto, per ogni pari mettiamo un segnalino P1-2, sul Clown Car, quindi molto carino, può fare veramente tanti token, se ci va bene, molto carina come carta. In cantesimo è solamente uno, che ho deciso di inserirlo, perché è particolarmente sinergico anche questo, Mirrodin Besage, non lo so leggere, costa 3 in cantesimo, quando entra, scegliamo Mirran o Pyrexian, se scegliamo Mirran, quando lanciamo un artefatto, creiamo un 1-1, artefatto, quindi creatura, solito, se scegliamo Pyrexiano, alla beginning della NSEP, peschiamo una carta, scartiamo una carta, se abbiamo 15 o più artefatti nel cimiterio, un avversario perde la partita, quindi, sono forti entrambe, in realtà, la prima è forte per fare Velu, la seconda, rischiamo di vincere la partita, letteralmente, se abbiamo già un cimitero bello pieno, ci può fare vincere, quindi, è anche una chiusura, carattesimo fortissimo, secondo me, in questo mazzo. Reparto terra è poco da dire, nomino solamente la Urza Saga, la conoscete già tutti, che è ovviamente molto forte in questo mazzo, e l'Academy Ruins, che ci permette di mettere un artefatto dal cimitero, in cima al Grimorio. Basta direi, l'Elementor's Fair, che sostanzialmente fa da tutore, pagando 4 e sacrificandolo per un artefatto, ci mette un artefatto in mano, quindi, vedete, tutte carte molto, molto sinergiche. Come ti generici sul mazzo, prima di chiudere, allora, il mazzo di per sé, è il classico mazzo artefattoso, almeno a mio parere. Quali sono i pro, quali sono i 4? Allora, di questo tipo di mazzi, ce ne sono già tanti in giro, abbiamo detto prima, Emry è un esempio di questi. Qual è il vantaggio di Urza rispetto a Emry, o perché uno dovrebbe preferire Urza rispetto a quale tipologia di mazzi di Emry, reality chip, eccetera, ce ne sono diversi. Allora, innanzitutto per la color pie, Urza ci dà accesso a 3 colori, quindi sicuramente se vogliamo giocare più colori, è un dato di fatto che in comandare è forte e giocare tanti colori, Urza è una scelta giusta. Primo. Secondo, il comandante è una chiusura, cioè se Urza sta giù, fa dei costrutti che diventano enormi, letteralmente enormi, quindi già lui da solo è un 4-5, che non è piccolo, e in più se fa ogni end, fa un costrutto che magari è un 5-5, un 6-6, capite che se comincia a farne 2-3, in più ne fa altri, magari con il resto del mazzo, gli sti costrutti, sono grossi, sono veramente grossi, quindi è una chiusura, che si aggiunge a quella delle combo, che già gli altri mazzi giocano di per sé, in più evade la tassa da comandante, cioè ipoteticamente in late, noi potremmo arrivare nella condizione, in cui abbiamo un board talmente impegnativo, che l'avversario non ci toglierà Urza, perché non avrà senso, perché noi lo rigiocheremo pagando solamente 3 mana, anche se magari è uscito 2-3 volte, però noi abbiamo un board talmente impegnativo, talmente tante creature, che tanto lo rigiochiamo a 3, quindi serve a poco toglierlo, veramente a poco, quindi comandante è veramente forte a mio parere, ovviamente ha degli handicap, uno l'abbiamo detto è l'avratta, anche se ci sono diversi modi per riprendere, rigiocare artefatti dal cimitero, e non è detto che moriamo da avratta, come vi ho detto prima, ci sono 2 combo nel mazzo, quindi se avratti, ma poi io faccio open inter servant, ma la vinco comunque, non è detto che ci muoio, comunque dobbiamo starci attenti alle vrate, perché sono un problema, carte che tolgono tutti gli artefatti, quindi al di là della damnation di turno, carte che possono togliere tutti gli artefatti in gioco, ci possono dare parecchio fastidio, pernicius per esempio, e basta direi, queste sono le due problematiche più grosse da gestire, brevemente cosa penso dei matchup, allora aggro contro gli aggro, penso che il mazzo stia discretamente bene, perché riusciamo a proporre già tanti bloccanti in fretta, se ci dovessero mettere pressione, e una volta che cominciamo a fare, urza, uno o due costrutti, che sono magari dei 5-5, fanno fatica a passare gli aggro, quindi non penso sia messo male, in più ha una combo, quindi lineare, control dipende, dipende se riescono a gestire il nostro board, tendenzialmente non penso sia messo malissimo, però se riescono ovviamente a non farci entrare urza, a vrattare, a starci dietro, non c'è poco da fare, se riescono a fare il loro mestiere, niente, i combo sono quelli forse un po' più ostici, soprattutto se sono più veloci di noi, perché potrebbero fregarsene altamente di tutto quello che facciamo, e scombarci in faccia, devono essere più veloci di noi, che non è scontato, e quindi abbiamo detto aggro contro il combo, midrange, mi sembra che sia un matchup decente, perché tendenzialmente riusciamo a stallare discretamente il board, anche con vari artefattini, che ci riprendono cose, in più abbiamo anche carte come winter orb simili, che li rallentano, insomma abbiamo un sacco di cose che dà fastidio, bloccanti, volanti, facciamo tanti pezzi nello stesso turno, che sono cose che generalmente fanno fatica a gestire, quindi mi sembra che possa essere un matchup giocabile anche contro midrange, e basta dire che abbiamo detto gli archetipi principali, ovviamente prendete con le pinze tutto quello che ho detto, non tanto perché siano delle stupidate, ma perché il mazzo come dicevo non è stato testato, quindi potrei aver benissimo detto delle cose che poi si rivelano non vere, è possibilissimo, e sicuramente la lista non è perfetta, anzi sicuramente vanno cambiate diverse carte, quindi mi raccomando con le pinze tutto quello che ho detto, però se volete una lista da cui partire, diciamo un'idea, una base, penso che questa sia una buona lista, una buona idea. Detto ciò, vi saluto, che sono già andato fin troppo per le lunghe, fatemi sapere nei commenti come vi sembra questo comandante, se anche voi reputate che sia forte per Centurion, se vi piace, se volete giocarlo, se non vi convince, insomma fatemi sapere la vostra opinione nei commenti, e ci vediamo la prossima volta, ciao e a presto!